Il doppio tesseramento, c'è l'importante è avere tutte le esistenze, vi chiami la funzionatura Come fotografi, gli addetti ai lavori, tutti Chi siamo? Chi siamo? Chi? 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 Grazie a tutti. 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 Basta, basta. Grazie a tutti. Basta qui. Vieni qua. Rudi. Grazie a tutti. Vieni qua. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.